Grazie a tutti. Siamo tornando a questo portogliato che cos'è un diritto. In questo momento alla campagnola ci saranno più e più tante famiglie accampate nel municipio. È una vergogna, una vergogna che va finita, è una vergogna che deve trovare una risposta, che deve trovare un tempo sopra la testa e invece l'aria che tira è esattamente l'opposto. Magari non va bene nemmeno il municipio, magari ci saranno ancora polizia, magari ci saranno ancora manganelli, ancora periti. Questo è quello che ci vogliono fare. Voglio non smazzarci tutti se non pieghiamo la testa e accettiamo i contratti da fame per esempio a mettere in giro come se fosse un vento. Noi le pettole le sbattiamo prima sul muro e poi su chi ci vuole privare degli occhi di diritti. La casa ce la riprendiamo, la testa non la abbassiamo. Forza Magliana! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.